Ultimi appuntamenti per l'edizione 2023 della Festa dell'Uva che culminerà domenica con la sfilata dei carri per le vie cittadine. Questo è il programma del fine settimana. Sabato 9 settembre, dalle 11 sino alle 24 in Viale Dom Minzoni, Walling Chuck Street Food. Alle 14 al Bar La Bouvet da Bourbana Torneo di Burraco. A Palazzo Tornielli dalle 20 in poi per Bacco. Mentre sui corsi storici cittadini grande tapulo... Scarica gratuitamente l'app News24 e leggi gratis i nostri giornali e se vuoi vedere tutto il video abbonati alla nuova televisione online e live 24 ore su 24.